benvenuti oggi vi presento la nuova olympus e m1 mark 2 è una mirrorless con un sensore micro 4 terzi stabilizzato su cinque assi viene venduta in kit con un'ottica molto interessante un 12 100 f4 stabilizzato molto luminoso e molto inciso e io l'ho provata anche con un 7 14 2 8 pro sono andato all'abbazia del goleto a sant'angelo dei lombardi in alta erpina in provincia di avellino sì sì fino laggiù per provarla ho girato a mano libera con quest'ottica con il 7 14 e mi sono veramente veramente divertito a mettere alla prova il sensore stabilizzato su cinque assi guardate io sono rimasto impressionato per un certo tipo di movimenti praticamente vi fanno lasciare a casa qualsiasi altro tipo di stabilizzatore non vanno bene per tutto ma vi assicuro che vi risolverebbero un sacco di problemi quindi davvero pollice alzato per la nuova olympus m1 mark 2 alla prossima ciao